La situazione nella quale tutta l'Italia si trova è molto seria, io credo che voi lo abbiate capito. Ieri a tarda notte, anzi alle prime ore del mattino, il Governo ha adottato un provvedimento molto rilevante, molto impattante, che limita gli spostamenti delle persone che provengono dalle zone maggiormente a rischio, soprattutto nel nord Italia. L'annuncio di questo provvedimento ha determinato molti a prendere la decisione di tornare alle loro case al sud, chi per motivi di lavoro, chi per motivi di studio. I treni sono stati presi d'assalto e naturalmente non possiamo calcolare quanta gente sta utilizzando altri mezzi, anche privati. Ecco perché stamattina alle 2.31 abbiamo adottato un provvedimento molto severo, me ne rendo conto, ma necessario. Questa ordinanza impone a tutti coloro che sono tornati in Puglia dal 7 marzo in poi, dalla Lombardia, dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbaneo, Cusio, Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, per soggiornare a casa o nel vostro domicilio qui in Puglia, hanno l'obbligo di restare a casa. Restare a casa nel proprio domicilio, in isolamento per 14 giorni. Dobbiamo evitare che questo desiderio umano di tornare a casa in un momento del genere, di tornare nella propria terra in un momento del genere, faccia danno alla Puglia e alla nostra terra. Quando arrivate, io ovviamente mi auguro che questa scelta l'abbiano fatta il minor numero di persone possibili, perché tanti mi hanno scritto, pugliesi, pugliesissimi, mi hanno detto che sono rimasti al nord per non far male alla Puglia, per non far male ai nonni, per non far male ai cugini, per non far male ai vicini di casa, per non far male ai parenti. E quindi se hai comunque preso la decisione di venire in Puglia e sei arrivato in Puglia, devi chiamare subito il tuo medico curante e devi andare su internet per compilare il modulo che trovi sul sito della regione Puglia, sotto questo video troverai i link, per dichiarare di essere rientrato in Puglia. Non spostarti da casa, non uscire da casa, non viaggiare per 14 giorni, devi rimanere disponibile presso il domicilio perché chiunque potrebbe chiamarti per chiederti una qualunque informazione sulla tua situazione. Se compaiono i sintomi, ovviamente dovete immaginare immediatamente avvisare il vostro medico di famiglia, se non lo avete chiamate un medico di famiglia che trovate nel luogo dove vi trovate appunto e il medico di famiglia vi indirizzerà anche presso l'operatore di sanità, gli uffici di prevenzione, in modo tale da stabilire cosa fare dal punto di vista sanitario nei vostri confronti. I nostri ospedali sono pronti, ma evidentemente non devono essere ingombrati inutilmente. Rispettare l'ordinanza è utile, non è una cosa superflua. Chiunque vi dica di sottovalutare questa situazione sta facendo del male a se stesso, a voi e a tutte le persone che amate e soprattutto ai vostri paesi, alle vostre terre, all'intera regione Puglia. Perché se conteniamo il contagio in questi giorni, se ne rallentiamo l'espansione, possiamo superare questa epidemia senza danni particolari. Ricordati anche che se non rispetti questa ordinanza che ho emesso stanotte, stai commettendo un reato e soprattutto sei passibile e poi di un processo penale. Mi raccomando.